Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ricciocamero89 Siamo tornati finalmente su un nuovo video di Clash Royale Quanti like mi volete lasciare? Perché siamo tornati? Uno perché mi andava, due ho trovato un po' di spazio sul canale ma neanche tanto è vero Infatti questo video è stato registrato e oggi, in questo momento, lunedì, che devo fare due live La Gillette Bomber Cup alle ore 15 e alle 18 il torneo di Fortnite Quindi se mi volete seguire, proprio oggi ci sono questi tornei Allora, volevo andare a sbloccare la nuova leggendaria insieme a voi La Strega Madre Quindi subito un bel pollicino in su per il vostro Ricciocamero89 Il codice creatore non ce l'hanno mai dato, quindi stanno bene così per quanto me li guarda Signori, allora Che tipo di tech girerà in queste lande desolate? Quale sarà i giusti counter? Perché con il moschettiere riesco a risolvere diversi problemi E io mi prenderei anche il miner perché quello la costa 5 Lo riusciamo a disinnescare con abbastanza facilità Spero che l'audio sia giusto L'ho messo leggermente più basso questa volta rispetto magari ad altre volte Quindi, ah, tra l'altro sempre abbiamo la nostra skin torre E mi va bene Abbiamo delle carte eccezionali Cioè, per il momento abbiamo veramente delle carte eccezionali Potrei andare direttamente con una fulmine Perché, mamma mia, in più io ho anche ammazzato quello che usciva Oh, eccola La strega madre E queste streghe ci piacciono È una carta che più e più volte esce dai mazzi di Supercell Più che altro c'è da capire che cosa farà questa strega madre Oltre a morire malissimo Perché, diciamoci la verità Non ha affatto una bellissima fine Posso sicuramente mettere questo Che mi dà comunque una mano, eh Qualche danno lo facciamo Quello mi va a coprire quello là Vandrei a fare così Perché tutto sommato Guardate che questo attacco non è andato per fatto male Se forse lanciavo prima il minatore Poteva essere una cosa migliore Però vi devo dire la verità Non credo che nessuno possa dire che stiamo giocando male Calcolate che dall'ultimo video io non ho ancora giocato a Crash Royale Questa è la prima volta che mi metto mano Ho giocato pochissimo Vi dico la verità Ho avuto tantissime cose da fare Ragazzi, adesso sto riportando anche Rainbow Six Vabbè, poi sapete Fortnite Pokémon Regà, un botto di roba Tra l'altro ragazzi, io non so se lo sapevate Ma da lunedì, intanto che chiacchieriamo Da lunedì al venerdì mi trovate in live sul mio canale YouTube Lunedì spacchettamenti Pokémon Come se non ci fosse un domani Venerdì among us Restante dei giorni Forte, spacchettamenti, vlog Chi più ne ha, più ne metta Lui non sta cacciando più niente Quindi o mi deve far capire Che in questo momento si è arreso Però io non è che mi fido tanto di queste persone Cioè, abbiamo veramente tantissimo E secondo me si è arreso Vedi, per esempio però io Continuo a non capire la cosa dell'arrendersi Cioè, mi hai attaccato fino adesso Capisco che non mi hai fatto più danno E va bene Ma arrenditi prima Ma perché non ti devi arrendere subito? Cioè, una volta che hai capito che socchiavo Li lascia perde Comunque abbiamo pullato un ottimo Un ottimo deck L'abbiamo scelto Pure lui ci ha dato ottima roba E la prima partita Ce la siamo portata a casa Io non l'ho vista purtroppo Lavorare La strega madre Cioè, non l'abbiamo proprio vista Adesso Calquate che questo video qua Esce pure molto presto sul canale Proprio perché vi ho detto Che oggi abbiamo tante cose da fare Mi sono preso la tronco Io ho dato i goblin lancieri a lui Cioè, il barile goblin a lui Qua è interessante Qua è interessante Sai che c'è spesso e volentieri Lasciare il golem È sempre Tanto qui che prendo, prendo Lui c'ha le frecce Quindi ipoteticamente Ipoteticamente Eh, ma ha lasciato pure il domatore Quindi di carte utili 100-100 Non è che ce l'abbiamo, eh Veniamo, ok Strega madre lui Sulla destra Non so quanta vita Possa avere Non ne ho idea Mi sta preparando Un attacco gigante Mi sta veramente preparando Un attacco Incredibile Ok Posso fare sicuramente così Però c'è da dire Non l'ho visto Non sono riuscito a capire Vi dico la verità Non sono riuscito a capire Raga Ho visto un botto Tre roba scende Tantissima Quello vabbè L'ho buttato per estrema compassione Ottimo che lui mi fa questi attacchi qua Raga C'è Veramente ottimo Che vedevo di GG Abbiamo difeso in maniera Ottimale Per quanto mi riguarda Quel golem di ghiaccio Andato anche là davanti Che fa quella strega Ah Mi sa che quando muore O quando uccide Lascia un maialetto Beh Diciamo Ah sì sì Li trasforma proprio No che figata Bellissimo Quindi tu devi venire qua Assolutamente Perché No quando muore lei Invece non succede niente Avete capito? Ah Quindi non è tanto Una carta offensiva Secondo me Ma si può quasi definire Una carta difensiva Perché se voi ci pensate Man mano che tu ammazzi persone Te escono fuori quei maiali Che te tancano Cioè Ottima anche offensiva Particolare Sapete Ancora non siamo riusciti a usarla Perché la stanno piccando loro Però Guardate che potrebbe essere interessante I maiali potrebbero essere molto buoni Ma preferisco loro Perché quelli costano tanto Sicuramente Questi sarebbero eccezionali Contro i maiali Veramente Cioè devo cercare un attimo Di capire un paio di cose Eh Buoni tutte e due Però Preferisco lui Mi sono molto basato Sul tankare I maiali Royale Diciamo che Secondo me Ce l'abbiamo anche Le carte buone Vediamo se lui Mi rascia Dall'altra parte O se si sta fermo Se si sta fermo Eh Sapete che Non ve saprei proprio dire Perché qui Riusciamo a fargli comunque Tanti danni Vedi Cioè i danni Gli abbiamo fatti Facciamo così va Vedi perché là sicuramente È uscito il maialino E di fatto Ok Non devono uscire Vedi i maiali Quanto sono Rompicavoli Tantissimo Lei deve morire Assolutamente Perché c'è la curatrice Ottimo Che non me l'ha fatta fuori Ma mia La curatrice È veramente Una carta Spaziale La curatrice È veramente Una carta Spaziale Vediamo Se gli spaccamuro Riescono a entrare Purtroppo Cioè in realtà Sì Purtroppo Un cavolo Sapete che c'è E che io posso Fare così Io posso fare così Portarmelo Centrale Far sì che Acchiappo danni Da tutte quante parti E vado di nuovo così Lui Le guardie Non mi ricordo bene Come si chiamano Non ha questa Eh Beh Oddio Non è andata malissimo Non è andata malissimo Non è andata malissimo Perché comunque La strega Sta dietro Ok Occhio Qua Sicuramente Posso gettare Sapete che Non credo che sia Un grandissimo problema Cioè sì Mi farà danno Perché per carità del cielo Me lo fa il danno Non credo che questo Ok Infatti Sapevo che non sarebbe Cambiato niente Fantasma royale Il fantasma royale È quello che Per assurdo Ci darà più problemi Incredibile Non avrei mai Creduto Una cosa del genere Vedo di la verità Perché Lui Sì Posso sicuramente Fare così E vedi Lui è stato furbo Lui è stato furbo Tanti danni Sia da parte mia Sia da parte sua Guardate Non siamo riusciti A fare Qualche danno Veramente Per pochissimo Io adesso Ho paura Che lui Si metterà Tutto quanto In difesa E saranno Problemi giganti Gigantropici Ora Ora non so Se siamo riusciti In qualche modo Secondo me Sì Oddio In realtà Siamo stati Proprio bravi Se vi posso Dire la sincera verità Secondo me Lui non se lo aspettava Un attacco Così in massa 59 Mi potrei dissociare In qualsiasi momento Sicuramente qua Urge difesa Perché Perché Abbiamo talmente Tanta roba Perché lui Arriverà A fiottone Raga Cioè lui Arriverà Con una cattiveria Decisamente Importante Qua Sicuramente Andrei a fare Così Capito Che bella Difesina Sì sì Tu continua A fare Quello che vuoi Non è un problema Perché In questo Momento Noi abbiamo Un grande Vantaggio Cioè Ma è che Difficile Come partita Molto bella Come partita Ma ce la siamo Giocata Molto Molto Bene E Stiamo a 10 minuti Quindi ci sta Quindi magari Prova la strega madre Io vorrei provarla La strega madre Ma Non mi sembra Che Che stia funzionando Questo possiamo Metterlo Mi serve Allora O gli lascio tutti i tank A lui Ma la vedo Brutta 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 Dai Gli provo a lasciare Tutti i tank La terremoto A sto punto Mi tengo io Il razzo Non si sa mai Eh non si sa mai Ragazzi Tra l'altro Scusatemi Ma qua Mi stanno tempestando Di messaggi Whatsapp Ok Luciano Morte Mi sembra anche Un po' esagerato O magari con aspettative Forse più alte Ottimo Non vi dico Che è stato un predict Perché non è Assolutamente vero Non ci è Non siamo riusciti Minimamente Minimamente Non siamo riusciti A prendere Quella roba Lì Incredibile Tantissimi danni Cioè Non è che Ve devo Stare a contare Qualcosa Rega Cioè Non vedo raccontare Proprio niente Che vedo raccontare Tutto ottimo Quello che stiamo vedendo È tutto ottimo Ok Potevamo forse Fare meglio La difesa Poteva essere Sicuramente migliore Però Tanti danni In entrambe le torri Di questo Io non mi preoccuperei Minimamente Anche perché Vado a tirare Quella là Che va A rallentare Tutte e due In più va a fare Anche danno Vedi Quindi Questa L'ho presa apposta È un'ottima carta Per giocare In questi tornei qua Veramente 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 Ottima Quindi Ragioniamo Io posso Tirare sicuramente Una macchina volante Sicuramente Posso fare Così Che vado a Togliere tutto Lascio lei Che insegue E vado Sicuramente A tirare Questa qua E sicuramente Riceveremo Più o meno Quello che Abbiamo fatto Prima Ottimo Che la Valkyrie Va a Tancare Mentre la Macchina Volante Va a Distruggere Tutto Butto Giù La Torre Di Sinistra Mi Sembrano Partite Perfette Eccellenti Mi era Mancato Devo Dire La verità Mi era Comunque Mancato Non siamo Riusciti Propriamente A distruggere Quella là Ma io Non credo Che ci siano Problemi Di sorta Potrei Tirare Anche Una Razzo Così D'Amblè Giusto Per fargli Capire Che non Si Scherza Qua Tanto La Difesa Ce l'abbiamo Non è Un problema Assolutamente Faccio Così E Valkyrie È stata Fondamentale Ragazzi Cioè Che Vedevo La Valkyrie Fondamentale La Valkyrie Mi ha Tancato Qualsiasi Cosa Potesse Nascere Sul Momento Quello Potrebbe Cominciare A darci Qualche Problema Ma abbiamo Tutte carte Difensive Cattivissime Ragazzi A lunga Distanza Veramente Tantissime Cioè Noi se ci Chiudiamo Lui non Può fare Assolutamente Più niente A me Mi dispi Cioè No In realtà Non mi frega Proprio niente A me De lui Cioè Sinceramente Ma guarda Vedete Adesso lui Pensa Che noi Stiamo Un deficit Di Elisir Ma non ha capito Che in realtà È lui Che è in deficit Di Elisir Perché Raga Potevo Contrastare Con qualsiasi Cosa Cioè Ma veramente Con qualsiasi Cosa Anche è vero Che abbiamo Pullato Piccato Non pullato Piccato Dei deck Veramente ottimi Però purtroppo Non ci siamo Tanto riusciti A provarla Sta strega Madre Abbiamo vinto Sicuramente Un gettone Grazie mille Gettone Lo apprezziamo E Questa qua Invece Ah Ok E qui Dovremmo andare A sbloccarla Va bene Va bene Va bene Signori Io spero Che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se fosse così Mi raccomando Pollicione in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivete Al prossimo appuntamento Il vostro cittadino Guardate Il video Che stanno apparendo Qua Perché sono Tanta Tanta Roba Io bene Ciao ragazzi Ciao Ciao Ciao